Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo al grido di allarme lanciato dai residenti del quartiere Piano Notaro a Gela. Attraverso una lettera inviata alla nostra redazione invocano l'aiuto delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale per fronteggiare una grave emergenza quotidiana, dagli incendi ai furti nelle abitazioni e delle auto. Ultimamente mani ignote hanno devastato l'unico parco per bambini esistente nella zona. Vediamo. Le nostre telecamere sabato scorso hanno mostrato la devastazione commessa da mani ignote ai danni del parco urbano che insiste in via Pitagora nella zona di Piano Notaro a Gela. Un parco, l'unico esistente nel quartiere dal 2000, che doveva rappresentare un punto di ritrovo per i bambini. C'erano i giochi che teppisti senza scrupoli hanno raso al suolo. Un parco infestato da atti vandalici e da giovani irresponsabili. Chi ha visto quelle scene in tv non ha avuto remore e ha scritto una lunga lettera di denuncia pervenuta alla nostra redazione. Scrive a nome dell'intero quartiere. Da mesi, si legge, la condizione di vivibilità si è abbassata con una velocità paurosa, quasi una situazione di assedio. Ma chi sono gli assediatori? Si tratta, sottolinea, di una grande comitiva di giovani adolescenti giolesi, dai 13 ai 16 anni di età, composta per lo più da maschi. Di sera si rendono protagonisti di comportamenti osceni e pericolosi sia per le cose che per le persone. Non sono mancati infatti lanci di bottiglie di vetro verso le strade adecenti alle due villette dove oramai i giovani risedono. Non sono mancati lanci di pietre e lampioni che sono stati rotti lasciando intere zone al buio o quasi. Come non sono mancati i finestrini delle auto rotti come se fosse un divertimento. Tutto questo fino a notte inoltrata. E lo scorso 18 dicembre, intorno alle 21, un gruppo di giovani sotto i portici della palazzina, a pochi metri dal parco vandalizzato, ha piccato un incendio ad una cassetta elettrica all'interno della villetta stessa. Solo l'intervento dei residenti, con l'ausilio di mezzi di fortuna, ha scongiurato il propagarsi delle fiamme. I residenti, si legge nella lettera, hanno paura ad uscire la sera anche per gettare semplicemente l'immondizia. Comandano loro, protagonisti dell'inciviltà. Prima, in quella zona, si poteva passeggiare e fare giocare liberamente bambini. Ora questo non accade più. Secondo chi scrive, nella zona si registrano anche fenomeni di spaccio di droga. E oltre a questi ragazzi, c'è che si macchia pure di furti nelle abitazioni e di auto. C'è paura, c'è abbandono, c'è rassegnazione nell'aria. E questa non la tolleriamo. Non possiamo permettere che le nostre case, le nostre strade, i nostri luoghi di ritrovo, dove cerchiamo un minimo di normalità, decadano così facilmente in mano ai delinquenti. Questa condizione, si legge ancora, ci fa sentire abbandonati ed impauriti. Si chiede più presenza delle forze dell'ordine, si chiede un intervento del comune. Ognuno faccia la propria parte. Come si pensa di crescere quando sei spettatore inerme di una involuzione così rapida e forte? Se una comunità o una generazione fallisce, è sempre colpa di tutti. Il disagio di questa città cresce e attendiamo risposte forti e certe da chi ne ha la facoltà e le competenze, oltre alla collaborazione di tutti i cittadini che sono i veri padroni del territorio. Cambiamo argomento con le nostre telecamere. Questa mattina abbiamo seguito la consegna di uno spirometro, una poltrona oncologica per i pazienti che affrontano cure chemioterapiche e ancora decori per il reparto di pediatria donati all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle. La donazione è frutto dell'accantonamento di parte degli stipendi dei consiglieri comunali grillini. Uno spirometro, una poltrona oncologica per i pazienti che affrontano cure chemioterapiche e ancora decori per il reparto di pediatria. Le hanno donati oggi all'ospedale Vittorio Emanuele Di Gela i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. La donazione è frutto dell'accantonamento di parte degli stipendi dei consiglieri comunali grillini, Virginia Ferruggia, Enzo Giudice, Angelo Amato e Simone Morgana e degli ex assessori Nuccio Di Paola, Chetti Damante e Pietro Lorefice per un ammontare di 3.600 euro tenendo fede all'impegno assunto con la cittadinanza alla vigilia delle consultazioni amministrative. Il senso innanzitutto è quello di poter mettere a disposizione parte dei nostri stipendi, dei gettoni di presenza, dei consiglieri e degli ex assessori del Comune di Gela a disposizione appunto dei cittadini. Abbiamo chiesto all'azienda ospedaliera di poterci dire quelle che erano le loro esigenze considerate il budget nostro che era di poco meno di 4.000 euro e siamo riusciti a comprare uno spirometro, una poltrona per la chemioterapia e alcuni addobbi che ci sono nella pediatria. Sono degli strumenti che mancavano e che all'ospedale sicuramente faranno comodo e faranno comodo a tutti i cittadini che li usano. Cosa è questo? Il cambio epocale di questo ospedale assolutamente no, è una goccia chiaramente nel mare però è il senso di come la politica per una volta può mettersi le mani in tasca e donare dei denari direttamente ai cittadini. Chiaro che noi possiamo anche acquistarlo però la sensibilità che sia dell'associazione, del gruppo politico, del singolo cittadino, un movimento di attenzione per i bambini che vivono un momento di disagio in ospedale perché stanno male è assolutamente importante e addirittura l'avere reso il reparto con piccoli accorgimenti ma importanti così più a misura di bambino rende sicuramente la regenza meno pesante per il bambino perché il compito nostro, come dicevo prima, è quello sì di curarli ma anche quello di non creare un trauma per il fatto che non sono a casa e sono in un ambiente diverso. In ambito sanitario questa mattina abbiamo raccolto anche la testimonianza del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale Carmelo Iacono. Sentiamo. Il 2017 comporterà la prosecuzione del progetto di riorganizzazione e di ristrutturazione che stiamo facendo sull'intero territorio. È un progetto che già abbiamo realizzato penso al 70%, c'è un restante 30% che deve essere ancora fatto, molto è avviato qualcosa sarà avviato all'inizio dell'anno però tutte le cose che avevamo programmato sono accadute già tant'è che ad esempio il presidio di Gela ha avuto ristrutturato il reparto per l'ortopedia all'ultimo piano sono stati predisposti i locali per la riabilitazione sono stati allargati i posti della chirurgia è stato creato lo spazio per la breast unit sono stati dati i posti letto all'urologia abbiamo dotato l'ospedale di nuove attrezzature le ultime due che sono arrivate è una colonna endoscopica di ultimissima generazione con una visione 3D che ne abbiamo acquistati tre uno per Gela, uno per la parte di Caltanissetta e uno per Mussomeli, siamo gli unici in Sicilia in questo momento ad aver acquistato queste attrezzature per fare delle diagnosi che siano diagnosi complete e abbiamo già indetto la gara per una colonna video-aperoscopica sia per Caltanissetta che per Gela delle cinque tacche che avevamo già acquistato quattro già sono state montate la quinta che è quella di Gela inizieranno i lavori entro la seconda decada di gennaio sono tutte cose che sono già state fatte ancora ce ne sono cose da fare c'è da trasferire l'oncologia da ristrutturare il reparto per le malattie infettive c'è da ristrutturare la dialisi c'è da rinnovare il parco tecnologico ad esempio delle radiologie, dell'oculistica, dell'odorino sono tutte cose che sono in programma oggi l'ospedale si può chiamare ospedale prima non so come era combinato non dimentichiamo abbiamo aperto un pronto soccorso abbiamo aperto la cardiologia con l'UTIC ma questo non è che ci soddisfa questo ci gratifica perché abbiamo conseguito dei risultati che non sono risultati nostri sono risultati della città e adesso parliamo della messa per i detenuti al pranzo di Natale che si sono svolti nel carcere di Contrada Balate a Gela è stata celebrata dal Vescovo di Piazza Almerina Monsignore Rosario Gisana la messa per i detenuti e il personale in servizio nella casa circondariale di Contrada Balate a Gela un appuntamento che si ripete ogni anno tra il calore umano di chi sta dietro le sbarre per avere commesso dei reati un appuntamento molto sentito in un Natale di speranza è un momento tradizionale come si suole dire anche se a me non piace molto usare questo aggettivo perché mi piacerebbe intervenire di più visitare di più soprattutto alla luce di quello che il Signore ci indica ammonendoci visitate coloro che vivono nei carceri perché nelle carceri perché chiunque fa una piccola cosa a queste persone come se l'avessimo fatto a lui stesso non è facile è forse più facile riuscire a vedere Gesù in un povero vedere Gesù in una persona ammalata in un bambino ma vedere Gesù in un carcerato soprattutto perché porta con sé un atto di trasgressione più o meno grave come si fa? Allora io credo che in questo Natale vorrei a tutti augurare quello che Gesù in fondo ci comunica con una grande verità dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici Il direttore del carcere Gabriella Di Franco Questo è un momento abbastanza delicato è chiaro che l'autodeterminazione al detenuto non si esplicita nella possibilità di andare a casa per le feste o altro chi rimane fuori è quello che rimane più sconsolato e il detenuto insomma l'afflizione delle famiglie in questo momento si tocca con particolare gravità L'augurio dell'amministrazione penitenziaria l'augurio che questo carcere questa struttura in particolare fa e di poter ripercorrere produttivamente percorsi di speranza quindi col fare con l'impegno La presenza del Vescovo oggi e di un'iniziativa come quella di Sant'Egidio dà proprio contezza di questa virtuosità del nostro istituto e della polizia penitenziale che ha ben recepito il messaggio della sicurezza intesa come svolgimento non solo di operazioni tipiche di polizia ma anche di contatto con la comunità esterna Ieri la comunità Sant'Egidio ha organizzato anche il pranzo di Natale un gesto che esalta l'importanza di vivere la socialità in maniera solidale e costruttiva Noi oggi abbiamo organizzato questa giornata questo pranzo di Natale per poter portare una speranza una speranza che viene dal cuore e che ci viene insegnata da nostro Signore Gesù Cristo Infatti noi cerchiamo di portare il vancelo nei cuori degli uomini E ora spazio all'apertura della Chiesa San Giovanni Battista a Gela E' stata inaugurata ieri l'ex Chiesa di San Giovanni Battista a Gela e il Sindaco Domenico Messinese ha consegnato simbolicamente le chiavi dell'edificio storico ad una scolaresca Affidiamo ai nostri giovani una struttura per cui abbiamo salvato i finanziamenti di restauro ha detto Messinese in segno di cessione responsabile del nostro patrimonio alle future generazioni Alla manifestazione inaugurale ha preso parte anche il Presidente della Regione Rosario Crocetta che ha apprezzato gli interventi realizzati Una chiesa sconsacrata che è rimasta chiusa per decenni e che oggi viene restituita come luogo di aggregazione luogo di confronto proprio nel centro storico della città di Gela Oggi rinasce nel suo splendore originale però con una funzione diversa abbiamo durante il restauro cercato di mantenere le parti originali dove è stato possibile infatti si vedono determinati scorci di diverso colore proprio perché fanno parte degli interventi originali e oggi lo inauguriamo dopo che praticamente si è completato tutto lì era un progetto che di fatto la città aveva perso e che noi molto caparbiamente siamo riusciti a recuperare il finanziamento siamo riusciti ad avviare in tempi celli le lavori e siamo riusciti a consegnarlo alla città penso che questo sia uno degli orgogli di questa città che ha tante tante cose belle nascoste a volte c'è l'arte che si riapre questa è stata diciamo c'è un altro angolo di fronte alla chiesa del rosario dove c'è una chiesa nascosta che anche lì dovremmo recuperare questa è sicuramente una delle cose più belle che sono state fatte per il valore che ha questa struttura un valore che viene confermato fra l'altro vedo un restauro fatto bene che non ha modificato la sua diciamo l'aspetto che aveva che aveva la chiesa e quindi anche questo è un lavoro filologicamente importante mi pare complimenti mi pare che l'amministrazione anche comunale possa essere soddisfatta di regalare alla città un bene così prezioso così bello adesso gli altri progetti di riqualificazione stiamo lavorando col comune per fare partire i cantieri nel giro tempi i tempi noi siamo pronti per essere chiari i soldi ci sono aspettiamo solo i bandi di cana a gennaio partiranno i primi appalti perché i soldi ce li abbiamo abbiamo sbloccato le risorse nazionali col governo e quindi possono cominciare a partire i primi bandi di gara che potranno migliorare l'aspetto della città successo ieri sera nella chiesa Sant'Antonio di Gela per gli alunni delle classi quinte A, B, C, D della scuola Luigi Capuana diretta da Cetta Mongelli che si sono esibiti in la nascita di Gesù Bambino grazie all'apporto degli insegnanti Rosa Lionti Anna Morso Cettina Liardo Donatella Gambino Rosa Maiera Francesca Di Martino Carla Marù e Maria Concetta Visania il testo è di Pino Marù i bambini hanno dato il meglio di loro nell'interpretare i ruoli assegnati facendoli vivere l'evento meraviglioso del Natale e regalando alla numerosa platea momenti di grande commozione in questa splendida atmosfera ha lietato con canti natalizi il coro polifonico della quinta di diretto dall'insegnante Marù e dai professori Francesco Falci e Salvatore Mammano che hanno magistralmente preparato e accompagnato con una tastiera e chitarra bravi anche i piccoli alunni della scuola dell'infanzia che cantando sulle note di celebri brani natalizi hanno fatto da splendida cornice una tombola natalizia all'insegna della classicità era stracolma ieri l'aula magna del liceo classico Escrio di Gela e risuonava dalle voci allegre dei ragazzi intenti a giocare alla tombola una tombola speciale fatta non estraendo i tradizionali numeri ma bigliettini con i verbi del greco antico ragazzi di scuola media aiutati dagli alunni del ginnasio si sono infervorati nella ricerca del significato dei verbi greci estratti a sorte dalla professoressa Lella Oresti ideatrice dell'iniziativa assieme alle colleghe di greco dell'eschilo tanto impegno curiosità e divertimento da parte dei partecipanti e regali in libri e piccoli oggetti per chi raggiungeva le mete dal lambo alla tombola un'iniziativa quella della tombola in greco antico realizzata per la prima volta nella scuola diretta da Gioacchino Pellitteri e che è tanto piaciuta anche a quei ragazzi che non hanno ancora avuto un approccio diretto con le lingue classiche c'è stato un boom di partecipanti dalle scuole medie più di quelli attesi e si è subito creato un clima di simpatia e complicità con gli studenti del ginnasio che i verbi greci invece li studiano da tempo potrà essere visitato fino al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre dalle 18.30 alle 20.30 il presepe è vivente allestito e lo vediamo nelle immagini nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta antistante la parrocchia Santa Maria di Betlemme a Gela retta da Don Giovanni Tandurella è stato ricostruito il villaggio di Betlemme con strutture semplici ed in cui è stata inserita la natività e le ambientazioni tipiche dell'epoca con la rappresentazione di alcuni degli antichi mestieri e la sezione scout Fabio Rampulla col patrocinio del comune presenta il presepe vivente appuntamento domani il 22 ed il 23 dicembre dalle 19 alle 21 presso il centro scout di via Mongibello Angolo via Giulio Sidagusa e torna il presepe vivente allestito dalla associazione SMAF sport musica arte e folklore preseduta da Gaetano Davide Arizzi appuntamento i prossimi 25 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Caralazzo dalle 19 a mezzanotte fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi martedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione la carta e i cartoni ben piegati e impilati conferire giornali quotidiane riviste libri e quaderni privati da altri materiali fotocopie e fogli usati imballaggi in cartone cartoni per pizza solo se puliti contenitori in tetrapack vuoti privati dei tappi lavati e scolati scatole per alimenti e nonna buste sacchetti zucchero e farina shopper in carta tovaglie in carta non unte depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fonde di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto riccoci in seconda parte del telegiornale in occasione delle prossime festività natalizie i volontari della pubblica assistenza Procivis domani il 22 e il 23 dicembre saranno presenti presso il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele la clinica Santa Barbara Hospital e la casa di ospitalità Aldisio di Gela per offrire dei doni ai degenti ricoverati ed esprimere vicinanza e alleviare il peso della sofferenza in un momento importante dell'anno il progetto denominato Natale Insieme in collaborazione con il comune di Gela e la pubblica assistenza Procivis intende donare un sorriso a quelle persone che affrontano le festività natalizie lontano dalle loro case spesso con un carico maggiore di solitudine si darà domani alle 21 nella chiesa San Giacomo di Gela l'iniziativa Notte di Natale organizzata dal piccolo teatro Città di Gela la regia è di Biagiopardo e la direzione artistica porta la firma di Orazio di Giacomo un incantevole viaggio emozionante per rivivere la magia del Natale attraverso la musica e la prosa da quest'anno scolastico la scuola primaria Nelson Mandela fa parte della grande famiglia dell'istituto comprensivo Gela e Butera sin dall'inizio dell'anno scolastico si è cercato di avviare una stretta collaborazione fra scuola famiglia e territorio creando un armonico sodalizio per la buona riuscita di progetti e attività ed in occasione delle festività natalizie tutti gli insegnanti e i bambini con l'aiuto anche delle famiglie hanno voluto ricreare il clima di un presepe vivente proprio perché è una nuova scuola che si integra con una scuola che ha già un suo percorso fatto di attività laboratoriali di percorsi didattici in collaborazione frequentemente con le famiglie abbiamo cercato di creare un presepe vivente proprio in occasione delle festività natalizie un presepe che si snoda lungo appunto i corridoi della scuola e dove in ogni classe è stato costruito uno degli antichi mestieri di un tempo i bambini devo dire sono stati entusiasti della proposta non solo i bambini ma soprattutto le famiglie le mamme che ogni pomeriggio assieme alle maestre con grande sacrificio hanno costruito ma anche divertendosi proprio i diversi laboratori questo per noi è lo spirito del Natale la collaborazione costante con le famiglie la capacità di fare una mi permettetemi il gioco di parole una buona scuola alternativa ad una scuola invece troppo stantia una scuola che si apre costantemente al territorio e che offre anche degli straordinari valori qual è il senso della solidarietà della condivisione e il senso costante della famiglia in una società che è spesso in crisi bambini infatti che nel corso dell'anno si sono chiesti ci hanno chiesto cosa potessero fare per festeggiare il San Donatale in maniera diversa dal solito e la scelta è ricaduta nell'allestimento di questo presepe che magari non è stato curato nei particolari per carità non vuole competere con tutti i presepi che ci sono bellissimi in giro ma vuole mostrare la voglia vuole mostrare la voglia proprio il piacere di festeggiare la nascita del nostro salvatore i bambini sotto la sapiente guida degli insegnanti si sono adoperati per ricostruire gli antichi mestieri all'interno dello spazio antistante alla scuola ogni mestiere è stato rappresentato dalle singole classi quest'anno con una nuova dirigente questa scuola è molto cambiata stiamo facendo molte cose tante feste grazie alla nostra maestra di religione stiamo organizzando tante cose è un'emozione fantastica che viviamo sempre tutti nel nostro cuore quindi è una cosa bella festeggiare il Natale spero che tutti lo festeggiano ero forestiero e mi avete ospitato è il tema dell'incontro di battito che si trarà domani alle 19.30 al Teatro Eschilo di Gela promosso in occasione delle festività natalizie dal Movimento Giovanile San Francesco l'evento avrà la finalità di vivere un momento di sensibilizzazione sociale l'ingresso è libero all'interno del teatro sarà allestito l'albero della solidarietà dove è possibile lasciare generi di prima necessità che saranno distribuiti successivamente alle famiglie bisognose di Gela un pomeriggio insieme in piena atmosfera natalizia alunni della scuola dell'infanzia genitori e docenti appuntamento ieri presso la sede centrale dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di via Salonico gli studenti si sono esibiti con lo spettacolo musicale e teatrale Babbo Natale smemorato e hanno presentato in chiave natalizia le attività e le competenze maturate nella scuola primaria abbiamo utilizzato fra virgolette il Natale perché il Natale è comunque una festa che unisce e a maggior ragione in questo caso realizziamo uno spettacolo natalizio rivolgendole offrendole ai bambini di 5 anni proprio come spettacolo ponte che unisce la scuola dell'infanzia e la scuola primaria è un momento già di apertura la scuola fa orientamento durante tutto l'anno ma a maggior ragione nei momenti di sintesi diciamo di condivisione nei momenti più importanti dell'anno sviluppa delle attività che possano presentare anche ai genitori dei bambini della scuola dell'infanzia in questo caso le abilità e le competenze che i bambini della scuola primaria gradualmente acquisiscono durante gli anni abbiamo scelto quest'anno i bambini di seconda primaria di seconde classi primarie perché sono i bambini più vicini in questo caso come fascia d'età anche un po' più maturi rispetto a quelli delle prime classi per esternare il loro pensiero ma ancor più per condividere con i bambini di cinque anni il progetto scuola scuola insieme scuola viva scuola aperta Buon Natale a tutti Anche l'Aias di Gela brilla tra le stelle dello sport premiate a Caltanissetta lo scorso 16 dicembre al Salone Michele Abbate il CONI tramite la delegazione provinciale ha consegnato a Kimberley Scudera e a tutti gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti d'onore nelle varie discipline sportive una targa di riconoscimento al valore sportivo per i risultati nazionali e internazionali ottenuti quest'anno ben due gialesi hanno ricevuto le stelle dello sport si tratta della medaglia di bronzo al valore atletico per l'arcera gialese dell'arco club Aias Kimberley Scudera e della stella d'argento al valore dirigenziale per il presidente Salvatore Mussoni grande soddisfazione in casa arco club per gli alti riconoscimenti ottenuti dal CONI che ancora una volta premia l'impegno profuso negli anni un secondo ed un terzo posto per due atleti della palestra Sicilia Bench Press nel powerlifting specialità del sollevamento pesi a Paternò in provincia di Catania Andrea Ventura ha conquistato il secondo posto nella categoria Juniors sollevando 155 chili nello squat 105 chili nella pancia piana e 190 chili nello stacco da terra Liborio Bon Giovanni ha conquistato il terzo posto nella categoria senior sollevando 180 chili di squat 115 nella panca piena e piana scusate e 205 chili nello stacco da terra gli atleti sono preparati dall'istruttore Angelo Pasqualino la pagina la pagina dello spettacolo è in proiezione al cineteatro antitodo di Machidella Gela il film La stoffa dei sogni con Ennio Fantastichini e Sergio Rubini sono due gli orari 19.30 e 21.30 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti